Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare la runa nella palude umidiccia in Minecraft Dungeon. Come sempre faccio la premessa che dovete completare il gioco almeno una volta, altrimenti la runa non la potete raccogliere. Una volta che avete completato il gioco, completate anche il livello della palude, quindi eliminate il boss, ma invece di uscire dal livello andate qui e interagite con questa piattaforma. Come per magia si sbloccherà l'ingresso in un dungeon, se così possiamo chiamarlo, dove potrete raccogliere la runa. Quindi raccogliete la vostra terza runa, attendete qui, e poi naturalmente potete riportarla al tempio, se così possiamo chiamarlo, nell'accampamento. Ora, a differenza della precedente runa dove siamo usciti dal gioco, qui completiamo il livello, visto che ci siamo, e torniamo alla struttura nell'accampamento, che è accessibile dopo aver completato il gioco, una volta che avete abbassato il ponte, ovviamente, e lì posizioniamo la runa. Quindi con questa abbiamo tre rune a disposizione. La prima runa la si ottiene quando si finisce il gioco e si interagisce direttamente con la piattaforma. La seconda runa la si ottiene nella foresta dei Creepers, come vi abbiamo mostrato nel video precedente, e la terza runa la si ottiene nella palude umidiccia. Naturalmente ci sono altre rune da raccogliere che vi mostreremo nei prossimi video. Ora, una volta che raggiungete questa sorta di piattaforma, posizionate la runa e come potete vedere abbiamo tre rune a disposizione.